Guardate che scena, è un mucchio, una melma di giornalisti che si accalcano, fotografi, cosa del genere. Scena ridicola, bisogna scansarsi. Guardate, 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 ora si cacciano. Guardate. Carla, cosa ne pensi di questa cosa? Non salto. Non salto. Ma neanche quando ci siamo insediati c'è tutto questo casino. No, ma tu non si è allontata la versione. No, è allucinante.